musica 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 benvenuti ragazzi qui sul canale ragazzi come abbiamo detto in ultimo video oggi abbiamo visto che abbiamo appos osm ragazzi abbiamo fatto l'indomè tre belle cose che vi ho detto l'ultima poi qua ragazzi 2 2 2 6 4 2 2 6 4 della cellulina ragazzi ora ragazzi ora ragazzi abbiamo una cadena ragazzi e quella sarà l'acqua che si tratta su con la ragazzi io ragazzi che la voglio fare un'acqua è un'acqua è un'acqua e un'acqua è un'acqua e 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 un'acqua vedete che ho otto con 40 punti è che è l'unico posto in Milano ed è la scuola che sfiderò e io che vi parlo di lì ho detto qua, ora che ho pensato che era il quinto video è il 23 il 23 il 23 il 23 il 23 il 28 nel nostro filling il 24 il 23 ora faccio la mia formazione ecco qua ragazzi ora questa è la mia squadra ora faccio la seconda che è l'inter che la cosa è la mia questa è la mia e uso il 3, 3, 4 guarda ragazzi se lo so solo guarda ragazzi io non l'ho mai vista io sto solo Salah, Neymar Randowski Acer e Haberz Frost, Lichos, Rastich, Blocatelli e ora poi Bandai Semedo Pique e Alisson e con la mia ragazzi con Mappé X-90 Lukaku Sofélix Hazard Kubo e Sanchez e poi con Debrai Debrain Bail e Pien 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 L'hanno bloccando In raga perchè veng raga Sanchez, Stankovic ragazzi, un 18 ragazzi straordinari, ragazzi, due figli di Filipe Stankovic che stanno all'interno Poi Andanovic e Radu, ragazzi, Radu lo vengono per questo Quindi, quando lo sono notato, la risa solo, sto a qualcuno posto e io sto al settimo Allora, così andate a comprare il sostituito di Radu, quindi, se stankovic, E' un po' Ter Staken, ragazzi, Ter Staken Stankovic, Stankovic Chiedo, qua, qui sotto, in rossa, ragazzi Rido là, numero, due E' un po' Il problema, ragazzi, il primo portiere sarà, per salire Prima, la seconda, perché lì, ha, lì, altra è ora, ragazzi Io, ora, io, 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 poi ragazzi E' un po' E' un po' E' un po' ragazzi qua io so il 4-2-4-B mi sembra ma per Messi, Lukaku, Mané, Lautaro e Sanchez poi Brodic è excellent, Varela, Vidal, Sanchez, Nagoran il bisogno del campo come stava, non ho capito ragazzi, io so, allora va, e avrai schiena il bastone da Brodiccio dopo De Pauli, il cavallo di Lukaku, ragazzi Lukaku, ragazzi, 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 ragazzi e io so, io so, gol, 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 gol e io so, io so, che parte rovano, gol, 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 gol e io so, che ragazzi, che ragazzi non so angolano se non so, che vale, sempre stagge ragazzi qua è un po' che sto secondo ragazzi ho giusto il volante ragazzi che devo fare una stagge un giusto posto ragazzi ora è capace una quarta facciamo se ragazzi ovviamente ragazzi ho passato il turno ragazzi ci sono dieci punti ragazzi se poi passo automaticamente guardate questo ragazzi prendo guardate no no non il borsa da un santo che è strano ragazzi che non ho scocato tanto tanto di quella storia non ho visto nessuno o ragazzi ho scritto solo al luco a color e il luco a color ragazzi e poi ragazzi è assoluto ragazzi ragazzi però ragazzi questa qua sono le riserve tutte riserve ecco le caccia ragazzi ragazzi non sono soltati ragazzi 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 che poi si è aperto un paraggio ma solo sulla santa di santa ragazzi che cosa scuola la cule se non non che non che 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 una scelta ragazzi una cosa dal buon sacco ragazzi non lo so lui fa 15 anni vede anche lui io io ho un sacco vede vede 15 anni ragazzi e vale già 3 minuti ragazzi ragazzi che funziona ragazzi non lo so ragazzi 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 guaj 교 ragazzi